Michela Ciarrocchi, centrale di una Zambelli-Orvieto che finalmente si sblocca. Una bella vittoria, una bella vittoria in rimonta dopo un set nel quale avevate continuato ad apparire un po' contratte. Cosa significa adesso questi tre punti? Sicuramente abbiamo dimostrato la squadra che siamo e non quello che abbiamo fatto nelle giornate precedenti. Abbiamo tenuto benissimo la concentrazione dal secondo set perché nel primo ancora eravamo un po' tese ma siamo andate benissimo. Una Michela Ciarrocchi che si è guadagnata il posto da titolare con il piccolo infortunio di Mila Monzani. Due belle partite per te, l'esordio in Serie 2, com'è stato? Molto emozionante, non me l'aspettavo perché Mila era fortissima, sfortunatamente ha avuto questo problema. Riprenderà il più presto e comunque io ce la metterò tutta per sostituirla al meglio. Dov'è che hai visto miglioramenti in questa settimana nel file di Orvieto? Soprattutto siamo migliorate nella testa che abbiamo tenuto molto bene la concentrazione e anche in difesa, cosa che ci rimaneva un po' contratta diciamo. Siamo andate molto meglio. E adesso si pensa subito a fare altri punti? Sì, ora subito si pensa alla prossima partita a Brescia. Ciao. Ciao. Ciao.